Pordenone ha celebrato il 69esimo anniversario della festa della Repubblica davanti al monumento ai caduti in piazzale Lero dei Mille. Erano presenti le autorità civili, militari e religiose, i sindaci del territorio ed i rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma. Quindi gli onori al gonfalone della provincia di Pordenone, decorato di medaglia d'oro al valor militare e la posa della corona di alloro davanti al monumento ai caduti. Siamo qui per celebrare qualcosa che molti di noi non hanno vissuto direttamente ma che proprio per questo deve essere ricordata. Ed è la festa della nostra Repubblica. In un momento come questo dove i valori della democrazia, la partecipazione di tutti noi alla vita politica sembra così indebolito, forse questa è una data che ci deve almeno far riflettere sul valore della nostra Repubblica, sul valore dei nostri valori di base e della nostra libertà. Io spero che ci sia una partecipazione attiva ma che almeno ci sia questo momento di riflessione. Infine, il corteo con a capo la banda cittadina ha sfilato lungo viale Marconi, fino ad arrivare alla sede della Prefettura, dove sono state consegnate le onoreficenze al merito a 20 persone che si sono contraddistinte nell'ambito sociale, culturale ed economico. Grazie a tutti.